E' Claudio Bastianelli che vi arriva dopo le interessanti esperienze al canaletto Seppo Real Follow, il nuovo allenatore del Don Bosco Spezia in vista del prossimo campionato di promozione Ligure. I rossoneri così si lasciano alle spalle il periodo targato Stefano Buccellato, quest'ultimo come noto salito ad allenare in eccellenza. Per Bastianelli Spezzino classe 1975 è in fondo un ritorno a dove cominciò da bambino a giocare quando faceva l'ala e anche a dove poi a livello juniores Claudio cominciò pure ad allenare. E' un ritorno a casa perché comunque anche il Don Bosco come il canaletto, come il follow sono le tre squadre, le tre società che mi hanno visto nascere, crescere sia come giocatore che come allenatore. Quindi in tutte e tre le società ho persone a cui voglio molto bene, ci sono persone che spero me ne vogliano ma quantomeno me lo dimostrano. Quindi è una sorta di ritorno a casa. Poi il Don Bosco comunque è stata la prima squadra da giocatore all'età di cinque anni, il piccolo Bastianelli. La prima squadra da allenatore perché nel 2002 ho allenato la Juniores. E comunque mio figlio Cristiano farà il suo esordio calcistico a settembre all'oratorio di via Roma, di via Le Garibaldi. Quindi sono contento dai.